oggi abbiamo uno zainetto tattico ghost interamente in cordura e nylon manigliettina in cordura di trasporto sul retro vediamo degli agganci molle e un'asola per agganciarlo sempre sugli agganci molle l'apertura è semplicissima è a velcro lo zainetto è compresso praticamente abbiamo una figura che una volta aperto diventerà di una capienza notevole intorno ai 20 litri lo spallaccio è inserito con pettorale regolabile in altezza troviamo ben tre taschine una due tutte chiuse da cerniere lampo all'interno possiamo vedere altre tasche l'altra tasca capiente e un gancetto per sistemare gli oggetti che non vogliamo perdere altra tasca superiore appertura cerniere lampo cerniere lampo di qualità clicco ok è possibile vedere sul retro dei velcri per attaccare patch o segnali cadere in frangenti alta visibilità o l'infrared l'apertura superiore scopre all'interno due vanno divisorio per dividerlo in due parti una e una due divise da questa questo vanno divisorio in nylon leggero all'interno possiamo vedere una una due tre una quarta taschina per documenti mappe bussola o similari